Briggworld. Una foresta di spade sassoni attende oltre quelle mura di pietra. Devo consigliarmi con Basim. Sarà qui vicino. Che cosa hai scoperto? Briggworld trabocca di guardie arrivate dal fiume. Pare ci siano due dei migliori uomini di Fulke a capo delle operazioni. Uccidiamo i capi e bruciamo le navi. Così indeboliti e in preda al panico non raggiungeranno mai Fulke a Porchester. Gli uomini spaventati pensano solo a sé. È un buon piano. Che cosa succede? Fermati! Che cosa... Va all'inferno! Davanti! Colpite dai lati! Prova questo! Fuoco! 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 Questi sassoni hanno finito di navigare. Bene. No! Meno uno, ne manca un altro. Sarà da qualche parte nel tuore. Vado subito! Ma che cos'è? Io ci proteggo! Muori! Muori! Ispeziona l'aria, Sinin. Dai, speranze! Io ti punirai subito! Tutti insieme! No! Un momento! Non hai scelta! Raffi! Oh! Ma dove in fronte, il capello? Oh! Abbiamo finito. Fulken non riceverà rinforzi da Brickworth. Ci rivediamo al campo. Basta! Non toccate! Ora! Basta! Grazie a tutti.